A spasso con Vitruvio. Io a pochi giorni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale ho immediatamente pensato, ho fatto una piccola offerta come tanti di noi, poi mi sono chiesto fra 30 giorni, a distanza esatta da un mese dal terremoto, già quanti cominceranno a scordarsi di ciò che è successo? E allora ho detto tra me, perché non usare questa mia predisposizione per raccontare delle storie a distanza di 30 giorni dal terremoto, raccontare un altro personaggio fanese, legato a, anzi proprio fanese, il più grande architetto di tutti i tempi, ovvero Marco Vitruvio Poglione. E allora mi indosserò le vesti di Vitruvio e chi vorrà venire con me partiremo dalla Rocca Malatestiana, però percorreremo il perimetro delle mura romane e i resti che ci sono ancora oggi e racconterò degli aneddoti sulla vita di Vitruvio e su ciò che lui ha fatto, un po' tra il serio e il faceto. Ecco, questa è una passeggiata che faremo sabato 24, dalle ore 18 il ritrovo è davanti alla Rocca Malatestiana, fino a che non siamo stufi, massimo fino alle 8, per cena tutti a casa, ci salutiamo da buoni amici. E ci sarà anche modo di devolvere in beneficenza, appunto pro terremotati, quello che uno ritiene giusto e opportuno. Sì, i partecipanti, chi parteciperà a questa camminata, a questa passeggiata con me, sono pregati di elargire un'offerta, un'offerta per le popolazioni terremotate. Con me ci saranno i Cesarini, ovvero l'Associazione Genitori Sant'Orso per Fano. Noi ci siamo prestati con molto, molto, moltissimo piacere ad accompagnare l'amico Filippo, perché poi è una bellissima esperienza, lui è molto acculturato, ci racconterà, racconterà tutti i presenti, tutti gli aneddoti appunto sulla Romanità. Sono curioso anch'io di saperli, naturalmente anche per me sarà una sorpresa e non vedo l'ora di ascoltarlo. Perciò ce l'ha chiesto e veramente saremo tutti in divise romane ad accompagnarlo.